26 miliardi per il trasporto ferroviario con interventi da realizzare entro il 2026. Questo è scritto nel PNRR al capitolo Infrastrutture per la mobilità sostenibile. Una buona notizia per il futuro ma che si scontra con un presente di ritardi nelle reti ferroviarie urbane ed extraurbane. I dati del rapporto pendolaria di Lega Ambiente ci dicono che non c'è partita tra il trasporto su ferro e quello su gomma tra il 2010 e il 2019 a fronte di poco meno di 300 chilometri di ferrovie, metro e tram ne sono stati realizzati oltre 2.700 di strade e autostrade. Un sistema fino a oggi disegnato attorno all'automobile in un paese dove quasi 3 milioni di persone si spostano ogni giorno con i treni regionali in uno slalom di disagi quotidiani peggiorati dalla pandemia. Altro problema è lo sbilanciamento dell'offerta ferroviaria con la parte meridionale del paese e le isole relegate in seconda classe. I fondi del PNRR sono oggi l'occasione, secondo Lega Ambiente, per rivedere la mobilità puntando alla riduzione di CO2 e degli altri gas clima alteranti, per recuperare i ritardi e le diseguaglianze territoriali nel trasporto su ferro e infine per razionalizzare il trasporto urbano con l'intermobilità, un sistema per spostarsi con gli strumenti offerti dalla città, auto, trasporto pubblico, mezzi a noleggio fino alle bici e ai monopattini e liberare lo spazio sulle strade, la media, un'auto, un passeggero non è più sostenibile e così ridurre il traffico e con lui consumi e inquinamento.